Queste immagini registrate dalle nostre telecamere in diverse giornate e dinanzi a diverse filiali delle poste italiane mostrano la situazione file nella città di Taranto. Il clima pare disteso e le file ben disciplinate, tuttavia numerose sarebbero le segnalazioni che giungono al comune di Taranto ma anche ai poliziotti e alla polizia locale. Così il questore di Taranto Bellassai, il responsabile della sicurezza di poste italiane e l'assessore alla polizia locale Cataldino hanno deciso di fare il punto in videoconferenza. Sono stati condivisi alcuni interventi, la definizione di corridoi esterni affinché gli utenti possano attendere distanziati in fila indiana e la disponibilità delle forze dell'ordine ad intervenire qualora si creino situazioni di non contenimento delle persone. Sì perché il rischio assembramenti resta alto, così è meglio prevenire che curare. Abbiamo raggiunto un accordo sulla modalità degli interventi e su come chi si reca l'ufficio postale deve porsi all'esterno degli stessi. Questo perché gli assembramenti sono un problema non solo relativo agli uffici postali ma a tutti quegli esercizi verso i quali si portano tanti cittadini di Taranto. Dobbiamo fare ancora uno sforzo, un sacrificio. Grazie. Grazie.